Ehi ragazzi, come va? Bentornati a TypoMan. Lo schermo non è fermo, è solo fermo il piccoletto lì. Non so, solo ho pubblicato il primo episodio finora. Nel secondo ci sono stati dei problemi di sincronizzazione audio. Spero di riuscire ad accorgermi nella prossima volta mentre edito. Vabbè. Comunque, l'ultima volta la nostra musa si è sacrificata per noi, credo. È riuscito a scappare, credo, forse, non lo so. O si è sacrificato e è riuscito a scappare, o parte di sé è riuscito a scappare. Stavo cadendo nel vuoto e... Vediamo. Bella musica. Ah sì, eccomi lì sto cadendo con la A e la V. E non io, Hero. C'è una I? Posso usare la I per qualcosa? Ah. Una sua ala è riuscita a scappare. Ah, è forma save. Ma vuol dire che è morta, quindi è la musa. O può rinascere da quelle due ali? Oh. Disastro. Passato. Yep. Oh my god, dove sono? Sembra che sto continuando a cadere sempre più in basso. Quindi adesso la parte della musa è dentro di me, oppure è andata via per sempre? Il passato... Oh, sì. Immaginavo. Eh, il passato non si può raggiungere, non si può cambiare, I guess. Eh, mentre penso a cosa fare qui, una cosa che avevo pensato riguardando i video che stavo editando è che forse i lie, le bugie sono alieni, pensavo. Perché c'era una parte con scritto Aliens Lie, che può voler dire che gli alieni mentono, ma anche che le lie, le bugie, sono alieni. È possibile che tutto questo casino è stato creato perché le bugie non esistevano prima su questo mondo o qualcosa del genere? Io ho la sensazione che se è come Limbo non ci saranno spiegazioni né testo né niente alla fine. Il gioco è fatto di testo, ma boh, non lo so. È per quello che non voglio troppo sprecare tempo a fare teorie perché so già che non verranno spiegate. O era così? È così anche con altri giochi, chiaramente, quindi. Beh, far teorie è divertente. No, appunto, pensavo che i lie erano degli alieni perché vedete che hanno quella specie di nuca oblunga, un po' come gli alien classici? Loro ho pensato, ma magari, perché no? Ok. Soprattutto dovrebbe avere qualcosa gigante, non so se è un alieno, se è costruito dagli alieni, se è una cosa, boh. Disaster. Gap. Non vedo niente lì oltre. Ok, quindi devo fare qualcosa con disaster. Vediamo un po'. Stairs, forse? Scale? Proviamo a fare stairs. Accetta. Ma come on! Aveva molto senso fare scale. Niente scale. A meno che è stair senza... Aspetta. Eh... Stair. No. Ups, è esploso tutto adesso. Ehm... Oh, quasi. What? Oh oh. Come è finita l'acqua là? What the fuck, man? Avrò provato tutte le fucking combinazioni. Ta-da! Idea! Yes! Fuck. Uoooooh! Oh. Ahahahah! Ahahahah! Non sarei dovuto venire qui a quanto pare. Perché non c'è neanche... Ahahah! Oh, le lettere non... Non hanno... Non c'è il pavimento. Ok. Non è quella la soluzione. Ok. Il video mi insegna che sono passati 40 minuti e non ci sono riuscito. Ehm. No, lo so. Onestamente non mi viene in mente niente. Anche... Oh, però... Thread, threads... Che poi... Ho pensato che questo fosse un... Thread, ma lì serve un'altra... Ah, serve un'h che non ho, a meno che si stacca le gambe per farlo. Non mi viene in mente niente. Eppure scommetto che se guardo la soluzione mi prenderò calci da solo. Bucket. 40 me... Non so, non... Non dovrei chiedervi il premesso. È solo che... Non lo so, non so quanto senso ha sprecare un'ora per fare un puzzle. Se non è... Boh... A me non piace guardare le soluzioni dei giochi. Di proprietosto mi fermo, ma... Se la soluzione è inclusa nel gioco? Vuol dire che non erano troppo fiduciosi nei loro puzzle? Whatever. Vediamo cos'è. Oh no, oh no. Ok, no, non è. I demoni del passato possono distruggerci. Lasciali andare e liberati. Ok, quindi è legato e devo liberarmene. Tear? È solo tear. Mi sa. Boh. Non ho premuto la seconda volta, ma... Sempre così semplici? Ma... Ma... Non sono troppo d'accordo, ma whatever. Strappa nel... Eeeh... Non mi soddisfa moltissimo. Whatever. Ora che posso fare? Ah... Voi c'è gasp. Che posso fare con gap? Proviamo di nuovo stare. Stairs. Anche se non ha molto senso, ma... Beh, in realtà adesso potrei fare una torre di lettere e basta. Per proseguire. Che mi ricordo uno dei giochi che ho odiato di più degli ultimi tempi, no? Whatever. Quei... Trine dove potevi imbrogliare un sacco di cose con la scatola del mago. Ah, please lanciala sopra, basta. Eh. Ok. Es! Scaliamo le es. Bene. Ah. Oh. Ora sono bloccato, però. Eeeh! Ok, quindi cosa devo fare ora? Devo... Ora che sono storti. Qualcosa con la G... Eeeh... O con la P... Paradis. No, eh? TGS Paradis? Tokyo Game Show Paradis? No. Oh! Aspetta, forse ce l'ho, forse ce l'ho. Forse... Forse... Perché cercavo una parola che era tipo fix o straighten, perché le piattaforme sono tutte strane, quindi magari... Magari qualcosa del genere... Eeeh... Ups. Ed è... E usa sia la P che la G, quindi forse ci sono. Eeeh... BAM! Oh, yes! Ok. Fiu! Hmm. È dritto. È meglio che mi porti dietro... Eeeh... Me le porto dietro le cose. Continuano a complicarsi, perché sono sempre più lettere, però. E' un po'... C'ho anche fatica a portarmi le dietro. Eeeh... Il passaggio l'ho fatto? A meno non sono stato 40 minuti a fare sta cosa. Ok, sì, qua c'è il sensore, quindi... Fiu! Non posso immaginare quanto più difficile può diventare il gioco, se... Chapter 3. Oh, eccolo qui, il capitolo 3. Tela di ragno? Ci sono i ragni? Uh... Questa è la parte tecnologica. Oh, aliena, visto che sono gli alieni, a quanto pare. Quelle non sono neanche... Sì, se il... Se il robottone è da... Wow! È davvero un alieno? Allora... Allora... Ah, fuck. Hanno usato... Il popolo delle lettere come materiale, perché lui non sembrava affatto di lettere. Lui sembrava... Semplicemente... Oh, what? Wow, 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 eh? Dove sono? Mi hanno fatto super... Ok, si vede che ha toccato il bordo con un salto o qualcosa del genere. Ok, hand... Ehm... Hand over? Wow. Teletrasporto? Forse teletrasporta solo le lettere? Ok. Ok, quindi... Over... Posso trasformarlo in... Hover! Levita! Oh, che bello. Forse ho passato i puzzle brutti di questa parte. Perché sembrano alternare puzzle brutti e puzzle belli. E non intendo con... Questo! Cioè... È relativamente facile, però almeno è piacevole. Non lo saprei. Ok, hover! Let's hover! Oh, come on! Come on! Cos'era quella roba? Ok, l'h sembra rimasta. Sì, alternano fra facili e piacevoli e difficili e frustranti. Non ho ancora incontrato uno difficile e piacevole. Ok. Oh, no! Ok, vediamo un po'. Ho tutti questi teletrasporti, ho il coso che crea lettere e ho un sensore. Ah. Ok. Lower... No. Seppier... No. Quindi... Crash... No. Volt... Può sfare volt. Proviamo con una carica elettrica. Aspetta, come le crea? Oh, ok. V... O... L... T... H... Ah, ok, sono cinque lettere, quindi... Cacchio. Ok, vo... Oh, ho fatto tante o inutili. Eh, amico, me la polverizzi, per favore. Vo... Ah, no. Mi sa che... Volt... E proviamo a farla. Sono curioso. Finché altra sono curioso di vedere dove le trasporta. Ok, volt fa qualcosa, ma... Ok, qua sono chiaramente cinque lettere, là. Boh, ma allora sparo la lacca, a caso. Facciamo così, a caso. Forse devo fare solid. Se li trasporta lì in mezzo. Ok, sì. Ok, il buon vecchio solid, allora. Buon vecchio solid. Sì, in effetti c'erano sopra quei cinque sensori. Avrei dovuto capire che li portava lì. Andiamo bene così. Ok, solid. Quindi sarà un procedurale alla cosa. Prima distruggo le presse, poi lo vediamo. Solid. Ok. Le rompe o le blocca solo? Beh, il solido adesso rimane lì. Posso fare... Off? No. Aspetta, qual è il problema qui? Fammi scendere un attimo. Giusto per capire qual è il problema. Ok, devo far scendere questa perché col salto normale non ci arrivo. Quindi, lower, no. Down, no. Se, pair, no. Rise, no. Push, no. Hover, hover. Non c'è la R. Halve? Di mezza c'è? Ma che scopo. La Y forse? Perché non l'ho usata? Oh, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Heavy. Con heavy riesco... No, non è vero. Proviamo. Proviamo. E farle scendere in bassa a sufficienza da riuscire a passare. Ha senso? Usa l'H, la Y, che sono due lettere strane da essere lì. E ha cinque lettere. Se non è questo sarò molto sorpreso. Heavy metal! Woooo! Ci siamo, server? No, no, no. Ci siamo, ci siamo. Oh, shit. Devo anche sbrigarmi perché... Woooo! Yes! Questo mi è piaciuto. Adesso che so che non devo cercare parole stracomplesse. Oh, ok. Andiamo avanti, astronava aliena. Non so non ho idea di quanto cacchio il tempo sia passato. Effettivamente, perché c'è... Perché ci ho messo, cos'è? 40 minuti. Ok, facciamo... Facciamo quel calcolo di 40... Ah, poi posso sempre separare un episodio a metà. Potrebbe essere l'ultimo, il capitolo 3? A un gioco del genere io metterò almeno 5 capitoli, ma boh, non sono... Game designer... Woooo! Hoppla! Vuoi dirmi perché non ti sei aggrappato? Sciocco hero. Hai un braccio solo e ve... Oh! Perché mi fai ripartire da qui, man? Perché a volte si aggrappa i bordi, a volte no. Strano sto hero. Sempre fare... Oh! Badevich lore. Sono rossi ora. Ah, ah no, ok, non più. Dove li porta? Doom? Ok, sta aspirando un Doom. Quattro lettere. Devo... Bloccare il risucchio? Break... No. Perché non posso creare una delle creature, no? Doom è Doom. C'è Doom... Hate. Fear. Sì, sono... I tre principali. Deve essere molto breve la parola... Cioè, molto... Una sillaba, probabilmente. C'è quattro lettere con queste lettere qui. Care. Proviamo a scrivere care. Magari le parole positive hanno... Danno dei problemi a sta cosa. Quindi... E... R... R... A... A... C... Care. Perché parole positive... Cioè, Doom arriva composto. Quindi... Se una parola positiva arriva... Arriva e fa uno scudo e magari distrugge il vetro. Non lo so. Proviamo. Vediamo che succede. Care... No. Ma... Oh! Oh... Oh, ok! Yeah! C'erano altre soluzioni, forse? Una parola... Magari una parola... Positiva con... Be... 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 Uh... Red... Nice... Love? Anche love si poteva fare, sì. Oh! No! Ora posso fare... Ah, faccio adesso love. Eh? Così ho lo scudo contro le pistole. Eh... Molto, molto pesante la parte iniziale di questa astronave o mondo sotterraneo alieno. Per il resto è andata. What? What? Shut the f... Niente love. Posso fare shield? No? Blade! Posso fare una spada? Eh... 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 Ok. Eh... Cosa posso fare contro la pistola? La bugia, posso crearla? Non c'è la I. Tipo se mi porto una lettera sulla testa magari mi protegge. Magari è un'idea scema, chi lo sa? Vediamo. Ah! Perché lui mi spara una O. Qualcosa che con una O fa qualcosa di positivo. Bo, Eo, Du, Eo, V, Q, Lu, U, Ru. No. Ok. Go! Niente! Niente da vedere qui. Sto solo rifornendo i proietti di sua maestà. Signor demone alieno. Android. Niente da vedere. Niente da vedere. Vediamo solo degli impiegati qualunque. Oop. Cosa può fermare una pistola? Peace? Posso fare pace? Pi, 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 niente peace. Facciamo blade. Facciamo la lama. Forse ci sono. Non lo so. Evade ho pensato. Evita. Ci sono tutte le lettere. Quindi magari... Magari mi rende invisibile evade. E evade surveillance si usa spesso, no? Illudere la sorveglianza. Evade! Ah no. Cambia il colore. Ah, non mi vedi, non mi vedi, non mi vedi, non mi vedi. Dammit. Troviamo... Reload. Reload! Magari? Boh. Magari lo faccio ricaricare all'infinito. Ok. È una buona idea, reload. Come on. Reload. Reload! Dammit. Vattene! Via! Esci da quella pistola! Li... No. Oh. Forse ci sono. Ho fatto over e mi è venuto in mente forse cover, ma non lo so. Speriamo Cover, copertura Più di questo, non so che cacchio può volere Cover Come on, però l'amore poteva salvarmi Perché ho bisogno dello scudo bianco Va bene Spero che lasciarlo lì sia stata una buona idea Sì, non potevo portarlo fin qua, credo Ok, che succede qua ora? Ok Se mi aspira non è una buona co... Oh, oh Ah Cioè, era tutto timing, whatever La, 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 la Ho un'altra di queste Oh Questo mi uccide? No Ok, vediamo Allora Posso fare vault Posso fare lever Posso fare invert, no Cut C'è una k C'è una k C'è una k Track Struck No Crack No Suck Tuck Track Luck Proviamo vault Proviamo vault Ah, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette lettere Ehm Thunderstruck No Ehm Voglio vedere se magari mi protegge dalla corrente È improbabile, ma Posso fare rubber per proteggermi dall'elettricità, no Ok Love Love is not gonna save me, right No Oh Ok, cover funziona normalmente Ehm Ok Non era un grande puzzle Però deve esserci un barbatro No, perché qua non mi lasciano portare niente What the fuck Man Ehm 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 Hiya Beh, spero che cover sia stata la risposta giusta, perché Se no Ti salti Ok Wow E io che pensavo di dover fare chissà cosa Eh